Cresce l'attesa per il derby di domenica all'esseneto di Agrigento tra Acragas e Nissa, una partita che sa di storia, quasi centenaria, in categorie più consone alle tradizioni calcistiche delle due città, per diversi anni rappresentata in Serie C con risultati lusinghieri. Già avviata anche la pre-vendita dei biglietti da parte della società agrigentina, che ha riservato un intero settore ai tifosi ospiti. Per tale settore il costo del tagliando è stato fissato in 10 euro. Ingresso gratuito per le donne e i ragazzi di età non superiore ai 12 anni. Si prevede un'importante cornice di pubblico. L'Acragas punta senza mezzi termini alla vittoria finale. La Nissa insegue il primo successo in campionato. Domenica tutti allo stadio e l'appello rivolto dalla pagina Facebook Acragantina ai propri tifosi. In casa Nissa si sta preparando la partita in un clima di massima serenità, nella consapevolezza che non sarà affatto un impegno facile. Peraltro la squadra biancoscudata è reduce da un turno di riposo dopo il rinvio della partita con l'Oratorio San Ciro e Giorgio per l'indisponibilità dello stadio Marco Tomaselli, interessato da lavori di collocazione del manto erboso sintetico.